Autogrill Magra Est, le partecipanti e le semifinaliste di Miss Muretto si stanno preparando alla sfida con il resto dell'Italia vediamo la numero ZEI con pigiamone fantoziano modello Giuditta ecco vediamo da notare da notare o un freddo boia ecco da notare se non affoga di qua abbiamo la Diana Kiriak ma Kiriak l'ha votata poi abbiamo l'uomo il panicouch e qua abbiamo un altro numero ZEI la numero ZEI e poi abbiamo la nostra bagnina oh bravo la nostra bagnina che non è andata al bagnino è prima di Genova ecco qui noi stiamo facendo il best stage abbiamo i babo cellesi mi sa che devo andare allora qui uno dei babi uno dei babi uno dei babi in tre piattese però mi ha scelto eh se c'è la fine l'uomo